Per i concorsi riservati e i soli dipendenti interni arriva la condanna della Regione Calabria al pagamento di 8.000 euro. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, stabilendo anche l'annullamento dei decreti dirigenziali per il personale dipendente della Regione, nonché delle delibere di giunta, concernenti la dotazione organica degli uffici regionali. Un verdetto che rischia di trasformarsi in un vero terremoto per la burocrazia regionale. Stando alla sentenza infatti i dipendenti che hanno soffruito di un avanzamento di carriera illegittimo si troveranno nel punto di partenza e sarebbero ben 799. A sollevare il caso un laureato in ingegneria civile che si era rivolto al TAR calabrese perché gli era stata preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per la copertura dei posti vacanti, illegittimamente tutti riservati al personale già dipendente dell'ente. I giudici di Catanzaro avevano rigettato il ricorso, da qui l'appello al Consiglio di Stato. Secondo quanto si legge nella sentenza, la Regione a Calabria si sarebbe sottratta al principio di pubblico concorso in violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, creando un'ingiustificata posizione di privilegio per il personale già dipendente ed impedendo ad altrettante persone di concorrere per l'accesso nella pubblica amministrazione.